Un cordiale saluto amici e amiche di TV6 ed eccomi qui all'appuntamento col meteo per questo mercoledì. Arriva un'altra perturbazione sempre di stampo atlantico, anche in questo caso avremo a che fare con la pioggia, con qualche temporale a partire dal nord, poi perturbazione in rapido movimento sul centro-sud Italia sotto la spinta di eventi più freschi occidentali. Per quanto concerne l'Abruzzo si prospetta una giornata quindi decisamente più instabile, anche con qualche acquazzone e piogge più presenti tra il pomeriggio e la sera. Insomma avremo un avvio di giornata complessivamente avaro di precipitazioni, però rapido peggioramento in giornata con nuvi in aumento ovunque, anche il rischio di piogge e acquazzone a partire dall'Aquilano settentrionale e dal Terramano, poi entro tarda sera queste precipitazioni potrebbero estendersi anche al resto dell'Abruzzo. Temperature che scendono anche di 4-5 gradi, massime tra i 9 e i 14 gradi, minime tra 4 e 11 gradi. Con questo concluso noi ci rivediamo nel prossimo approfondimento sempre qui su TV6.